Fermo! Fermo! Oi, si è rotto! Ehi, ciao! Ehi, Riccardo, sei bianco dietro la schiena? Ehi, dove? Dietro la schiena! Non vedo niente! Sì, ma dove? Ehi, abbiamo visite! Arrivo subito! Oi! Sto arrivando! Ehi, salve camion! Qual è il problema? Ciao, Riccardo! Stavo trasportando delle ruote! Quando a un certo punto... Oh, no! Ho sbagliato strada! Oh! Ehi, fai attenzione! Non ti preoccupare! Ti vedo dallo specchietto! Yeah! Devo svoltare qui! Muletto, eccomi qua! Va bene! Inizio a caricare! Io, grazie! Grazie a tutti. Tutto pronto! Grazie mille muletto! Fai buon viaggio camion! Allora, giro qua a sinistra... Oh mio Dio, che strada stretta! Oh no! Salve! Ho portato le nuove gomme! Ottimo! Inizia a scaricare! Va bene! Fermo! Fermo! Il mio specchietto! Non vedo niente! Oh, si è rotto! Ma cosa hai combinato? Mi serve un meccanico! Senza specchietto retrovisore non si può proseguire! Mmm, va rimesso al proprio posto! Prenderò una pinza! Adesso lo metterò a posto! Ecco fatto! Ora gli specchietti retrovisori andranno regolati! Adesso vediamo se ci sono danni! Qui sembra essere tutto a posto! Qui c'è un piccolo graffio! Senti, è dovuto all'urto! Non ti preoccupare! Darò una bella verniciata! Userò uno speciale spray! Mi servirà anche uno straccio! Adesso dovremo aspettare qualche istante! Perfetto! E adesso do una bella allucidata! Oh, com'è nuovo! Riccardo, grazie mille! Ehi, vieni a fare il rifornimento! Fai buon viaggio! Grazie mille! Ehi, camion, dimmi un po', ma son per caso bianco dietro la schiena? No, tutto a posto! Ciao, ciao! Arrivederci, camion! Ora io e te dobbiamo fare un bel discorsetto! Ciao, ciao! Ma che scherzi è che fai? Perché mi fai questi scherzi? Piegamelo! Ho portato le gomme! Ah, son felice che stai bene! Sì! Ottimo lavoro! Ti ringrazio! Felice di averti aiutato! Ho portato le gomme! Ho portato le gomme! Ho portato le gomme! Grazie a tutti.